Ringrazio il Consiglio di Tirola per aver detto che io abbia fatto una lezione parli strati. Sono contenta ma pensavo comunque di parlare con questioni che vi compreste. Il punto è un altro, se vogliamo fare la questione politica, io ritenevo molto più eco parlare di riconoscimenti, di debiti fuori bilancio al prossimo Consiglio. Perché se vogliamo parlare di questione politica dobbiamo pensare prima ai cittadini, dobbiamo pensare alle strade che sono disastrate, dobbiamo pensare all'energia, dobbiamo pensare all'energia, dobbiamo pensare all'energia, e quando lei giustamente ha detto abbiamo appunto 22, la salvaguardia del bilancio, quindi approviamo prima i debiti, avremmo potuto fare un testo. Quindi pagare oggi il testo 22, vedere la capienza, vedere la situazione economica del Comune, pensare prima a quelle che sono le effettive emergenze del Comune di Casoria, e poi pensare agli debiti degli anni 2011, 12, 13, che non capiscono perché proprio questa amministrazione, oggi vuole pagare. Strano? Prego. Basta il testo. Basta il testo. Ciao Andrea, un del mio riconsiglio della rossetta, è stato il mio riconsiglio della valore consigliare.